Alessio Pignatelli, Cristiano Cesarini, la CV Volley festeggia questa promozione in Serie C quindi un messaggio che è arrivato e siete soddisfatti per questo? Sì, siamo soddisfatti per il riconoscimento di quanto buono abbiamo fatto lo scorso anno è arrivato questo ripescaggio e siamo già pronti e carichi per affrontare il prossimo anno Come si è avuto la notizia? E tramite il gruppo, nel senso che è arrivata una mail a Cristiano dove chiedevano il ripescaggio e Cristiano ce l'ha girata Diciamo che stava davanti a me quando è arrivata la telefonata, ma lui non lo vuole dire e quindi è arrivata la telefonata e io ho risposto dicendo lo prendo e dall'altra parte l'interlocutore ha detto come fai non sai neanche che cosa ti sto offrendo qualunque cosa tu mi offri io la prendo perché era il comitato regionale Sicuramente noi eravamo già all'opera, un retroscena che ti svelo e che comunque avevamo intenzione di valutare l'opportunità di acquistarlo il titolo perché il gruppo lo aveva meritato ed era molto valido per cui già stavamo ragionando in un'ottica di Serie C Questo ripescaggio ci ha dato soltanto un'opportunità di concretezza anticipata Abbiamo intenzione di proseguire il percorso della prima squadra con l'integrazione delle atlete giovani che faranno, e questa è una notizia in anteprima che ti do, faranno l'eccellenza sul territorio di Under 16 perché sono uscite anche quelle di ufficialità, l'ufficialità è uscita ieri Purtroppo, questo lo dico con rammarico, l'unica eccellenza non solo del territorio di Ciderecchia ma proprio su tutto il comitato provinciale di Viterbo, l'unica eccellenza del femminile è rimasta la nostra C'è proprio questo obiettivo di far crescere alla pari le società tra di loro e far crescere il materiale umano che si mette dentro al progetto quindi andremo a far crescere i dirigenti, gli allenatori, ovviamente soprattutto gli atleti che ne faranno parte cercando di lavorare come si lavora nell'alto livello della palla a volo Questo ovviamente prevede che le atlete che faranno parte di questo progetto faranno anche parte della rosa della Serie C sia perché ce le vogliamo godere, tra virgolette, vedendole in campo a 15 anni o a 16 anni ma anche perché se qualcuna dovesse salire di livello siamo pronti a accompagnarle anche in altre realtà del territorio per fare dei buoni percorsi